Stefania Grasso per parlare di un'altra iniziativa, un altro progetto che è la vista protagonista, sono Pier Mario Ferraro e ovviamente parliamo di questa pubblicazione ottenuta da Stefania Grasso di un'immagine scattata presso il colle del Gran San Bernardo nella sesta edizione di Heart Rated per il book project 2020-2021 e si tratta di una segna di arti visive promossa in Germania e che prevede appunto alla pubblicazione del volume verso l'estate del 2021 e ovviamente deve essere un po' prima ma i problemi legati al Covid hanno un po' così posticipato anche l'uscita di questo volume. Con la fotografia selezionata, retta la vetta del Pernadzuc di Plane Jupiter al tramonto della Luna che è stata scattata lo scorso agosto. Però ecco per parlare di questo progetto e di questa pubblicazione parliamo appunto con Stefania Grasso, come nasce questo progetto? Buongiorno a tutti, grazie per l'intervista, per Mario. Sono stata contattata dall'editore tedesco a Königswinter che si trova in Renania, quindi in Germania, dopo aver partecipato poco prima a un progetto su Beethoven per l'anniversario dei 250 anni della nascita dedicato a Moonlight Sonatas dove ho presentato delle foto di Venezia e Cervigna e Chiaro di Luna. Mi informo, questa è una notizia dell'ultima ora, che proprio nel primo pomeriggio è uscito anche questo volume online di Moonlight Sonatas e la foto selezionata è stata quella di Venezia vista dal vaporetto di notte lungo il Canal Grande nella zona di Rialto. Quindi è una cosa proprio dell'ultima ora. Fresca, fresca. Fresca, fresca. Anche qui aspettiamo con ansia la pubblicazione cartacee appena i numeri della pandemia scenderanno e sarà possibile un ritorno veloce alla normalità. Poco dopo questo progetto qui ho ricevuto un'altra email dell'autore tedesco Gabriele Walter che aveva partecipato alla selezione delle opere citate e prima mi ha invitato a collaborare poi in seguito per questo volume. Io ho proseguito comunque con il tema della Luna e ho candidato altre foto, tra le quali proprio quella del Gran Sammernardo del Pen du Sucre scattata a Plan de Jupiter, come dicevi tu nell'introduzione, che è stata apprezzata, quindi selezionata e pubblicata. Ecco, ma si tratta di un progetto unicamente fotografico o ci sono coinvolte diverse arti oltre alla fotografia? Ecco, no, ci sono tutte le arti visive coinvolte dalla pittura alla fotografia. Purtroppo non è stata apprezzata dal vivo perché anche a Berlino avrebbero dovuto esserci delle manifestazioni proprio verso la fine del 2020, nell'autunno. Covid ha sempre, come al solito, ha rallentato tutto e anche il libro ha subito un notevole ritardo e subirà un notevole ritardo ancora nella pubblicazione. Dovrebbe uscire comunque verso giugno prossimo, si spera, non possiamo fare purtroppo una previsione. Ecco, come mai la scelta del Gran San Bernard? Che tu avevi avuto un'occasione particolare di visitare questa vallata e avevi raccontato di avere delle semplici fotografie scattate lungo la strada verso il tunnel. Sì, esatto, la strada proprio verso il tunnel in direzione di Zermatt con i pullman. Questa vallata mi ha sempre affascinata e quindi ho sempre manifestato il desiderio di fermarmi a vedere il colle. E c'è stato un episodio piuttosto spiacevole che ti è capitato nel 2018? Diciamo che il 2018 purtroppo è stato un anno molto problematico in generale, soprattutto poi il lavoro a scuola. Io come vedo comunque pubblicata, pubblicizzata una gita a Zermatt prenoto perché Zermatt offre delle bellissime vedute sul Cervino. Mi ricorda l'impresa di mio papà che proprio da lì era riuscito a scalarlo e da lì abbiamo fatto le ultime foto insieme. La gita, quella gita del 2018, prevedeva appunto come da catalogo una sosta al ritorno al colle. Poi inspiegabilmente l'accompagnatrice e l'autista hanno deciso di tirare dritto verso il Piemonte senza nemmeno dare una spiegazione utile. Hanno solo detto che il veicolo non poteva fermarsi, sostare. Ci siamo lamentati tutti e la delusione quindi è stata grande. E così cosa hai deciso di fare? Niente di particolare, l'anno scorso non sono andata a Cervigna come di consueto in agosto per le vacanze. Avevo paura del Covid, la fragilità dei miei familiari. Non lo nego, sono una sostenitrice della didattica a distanza perché ritengo che siamo in un assetto di guerra quindi dobbiamo trovare un rifugio. non ho anche potuto spostare Jolila nella mia gattina perché è stato un ordine tassativo della veterinaria che è stata prelevata, sterilizzata, quindi è una gattina un po' fragile diciamo che ha subito già troppi traumi. Poi ho saputo dal web dei mercatini di San Remy Ambos la diciottesima edizione della Marsha di Ranta, mi perdonino i Valdostani per la pronuncia. Poi ho contattato il signor Christian Avoyer che ero sempre poi ringraziato per la sua disponibilità, per la sua accoglienza. È una persona molto gentile, disponibile, che mi ha fornito delle indicazioni precise su cosa fotografare e per la salita e così ho potuto realizzare un bellissimo reportage. Sono stata molto soddisfatta, è venuto bene e io non riesco a guidare la macchina e quindi ho chiesto aiuto e mi sono fatta accompagnare. Ecco, questi reportage per chi sono stati realizzati? Allora, i reportage sono stati realizzati prima di tutto per la rivista digitale Marcos che si occupa esclusivamente di reportage di viaggio, sottolineando la bellezza del paesaggio circostante. Io ho già collaborato per diversi portfoli per questa rivista, cercavano dei fotografi proprio per degli itinerari naturalistici ed è anche comunque collegata a CNN Travel, che è l'emittente americana che si occupa di viaggio. Ecco, ricordiamo il link quindi al portfoglio, il passaggio nel Gran San Bernardo e la fascinante metamorfosi dell'insegnante di scienze e se giustamente soffermata su quest'altro aspetto. Sì, sappiamo il significato generico del termine metamorfismo, quindi trasformazione. Quest'area ha di noto un sistema multifalda e ha delle caratteristiche morfologiche veramente impressionanti perché dominano l'intero paesaggio che è scarso in vegetazione ovviamente perché si sale parecchio in quota, ma le rocce sono intervallate da fiori molto belli che sono gli epilobi rosa e dalle cascate. Faccio vedere qualche immagine. Allora, condivido lo schermo. Allora, questa spero che si veda. Adesso si apre. È una delle cascate del San Bernardo. Poi abbiamo questa che è la foto in sé premiata, quindi il pen du sucre è questo, è il tramonto della Luna e poi abbiamo questo metamorfismo molto bello, ecco questo è l'aspetto delle rocce, poi abbiamo anche questa foto qui, ad esempio con Icardi tutto attorno alla statua di San Bernardo. Ecco, tu ti sei soffermata su alcuni dettagli, la montagna Baus e la casa cantoniera in particolare. Sì, esattamente, è una montagna che è stata premiata dalla rivista Landscape Photography Magazine, ve la faccio vedere, è questa qui. Per il contest wide angle, quindi se cercavano foto con lenti almeno di dimensioni 28 mm, direi che con la Nikon di 5200 e la lente apposita 18-55 mm la scelta sia stata ottimale. Poi abbiamo la curva in prossimità della casa cantoniera, quindi questa è la ex casa cantoniera, adesso c'è un ristorante, ha una pendenza favolosa per cogliere tutto il paesaggio circostante. Ecco, come hai fatto a fotografare? Sei scelta dalla macchina o rimani sopra la vettura, diciamo? No, rimango sopra perché è vero, mi paragonano un po' a Spi di Gonzales, che dicono che sono molto veloce a scattare, infatti mi stupisco anche a volte dei risultati che non vengono mosse perché a volte c'è il rischio proprio di rincombere nella sfocatura. A Baltunasci me lo dicono sempre, scatti indolori e non ci accorgiamo neanche. E quindi hai scattato qualche tempo fa anche una fotografia del tunnel del Gran San Bernardo? Sì, sia andando che tornando dalla Svizzera, sempre da Zermatt e anche dal Sempione, quindi dal Pullman. C'è una diga appena fuori dal tunnel sul lato svizzero e a volte ho trovato anche gli alberi innevati, perché il tunnel ha il vantaggio di avere tante finestre, quindi si riesce a cogliere l'attimo. Sì, perché tu sei anche un po' claustrofrovico, quindi come curi questa paura? Certo, io non prendo neanche l'ascensore a volte. Diciamo che essendo più alto il Pullman, dal Pullman si percepisce meno la paura che da un'auto. Il San Bernardo poi è quasi tutto aperto. Amo questo percorso, quindi nei punti chiusi cosa faccio? Mi curo con il secondo movimento della settima di Beethoven. Passa la paura. Ecco, essendo in tema di tunnel, sei molto sensibile, ogni anno anche tu ricordi la tragedia del Monte Bianco e sono passati pochi giorni dal 22esimo anniversario. Sì, perché lo ricordiamo il 24 marzo del 1999, esattamente. Ero stata più volte invitata a partecipare al Memorial Spadino, cosa che adesso non si può fare ovviamente per l'emergenza Covid. Spadino è un eroe in moto, un ragazzo semplice che ha salvato la vita di circa una decina di persone entrando e uscendo dal tunnel in fiamme quel giorno e ha pagato con la sua stessa vita. Poteva esserci chiunque di noi in quel momento. Non ci sono mai andata a fotografare questo raduno. Prima perché non ho la moto e secondo perché io non riuscirei a resistere a lungo in un tunnel chiuso come quello. Però ho voluto postare nei giorni scorsi, proprio il 24, sui social, quindi sia su Facebook che su WhatsApp, su Instagram, una fotografia mia della Valferre che avevo scattato lo scorso Ferragosto, una delle tante inquadrature con i fiori in memoria di quelle persone. C'era anche il marito di una mia amica che è rimasto vivo per miracolo, che era un vigile del fuoco, ma poi la beffa è morto pochi anni dopo di malattia. Tragedie come queste non vanno dimenticate, mai. E si poteva comunque evitare, non sappiamo perché. Torniamo al San Bernardo, quali località hai fotografato di preciso lungo il percorso? Allora, lungo il percorso, sempre grazie al Pullman e Trouble, che è molto bella, proprio ai piedi della vallata, è un posto molto carino. Poi Gignot, che ha anche questo, un borgo molto interessante. Poi ho visto Bourg Saint-Pierre in Svizzera e ero rimasta affascinata, essendo in alto, dai tornanti in mezzo alle nubi basse. Questo tornando da Ginevra proprio lo scorso primo agosto. Saint-Rémy Ambossi invece l'ho fotografata bene a piedi tra il borgo e i mercatini. Buonissimo il prosciutto. Faccio vedere qualche foto anche di Saint-Rémy. Allora, sul borgo abbiamo questa fotografia qui dall'alto e qui con i mercatini annessi. E poi è bello anche cogliere i dettagli, ad esempio i volti delle persone, qua, questa è una mia amica, tra l'altro, di Chathion, e poi anche l'oggettistica. Queste cose qui. Ecco, quello che è molto colpito è anche la fotografia che hai scattato e che sembra convergere verso il tunnel, quindi sembra veramente proprio che tu riesca a entrarci dentro da un momento all'altro. Ecco, è questa foto qui, adesso la recuperiamo. Eccola qua. Sì. Sì, quello di punto, sì. Allora. L'ho creata appositamente, l'ho cercata proprio appositamente questa inquadratura, nel senso c'è proprio un punto, come hai visto, che il tunnel te lo ritrovi di sopra, invece in certi momenti passi proprio a lato. Poi c'è stata anche un'inquadratura, adesso lo cerco, dove sono anche riuscita a inquadrarlo tutto, tutto intero. Adesso, solo un secondo, che dovrebbe essere una di queste immagini. Allora, questa è la strada che porto su. Intanto, la rappresentazione. E poi c'è proprio, adesso solo un secondo, che ha qualche problema nell'aprirsi, nel caricarsi. Eccolo. Qui è tutto, è tutto il tunnel intero, praticamente. Quindi è spettacolare, proprio come va l'allata. Ecco, nelle tue foto ci sono spesso, insomma, rivolgi spesso l'attenzione verso i luoghi sacri. È quasi come se volessi ricercare la contemplazione e il misticismo, anche attraverso le fotografie. Questi incantevoli borghi presentano delle bellissime chiese, quindi hanno stili antichi, medievali, con una interessante architettura. Lo possiamo notare anche ad Antei, per esempio, la stessa cosa. Quindi io colgo l'occasione per rivelare ai rettori e agli osservatori, nelle mie pagine fotografiche, piccoli dettagli da riscoprire, perché dal piccolo, dalle cose semplici, si sa, lo dico sempre, nascono le cose più belle, quelle più grandi. Poi è bellissimo unire la natura all'arte, la miglior terapia per il corpo e per l'anima, insieme alla pet therapy. Faccio vedere anche qui una fotografia un po' più spirituale, ecco, con queste cappelle piccole, dove ci si può fermare anche lungo la strada a dire una preghiera. Ok. Ed è anche per questo che collabori con Musei d'App, che apprezza sempre la riscoperta di piccoli luoghi della grande cultura. Ricordiamo il portfoglio sulle chiesette della frazione di Vartounanche, Promido e in particolare, che è stato presentato anche sul nostro foriere rusebiano, proprio questi scorgi e queste immagini. Hai in mente altri portfogli da presentare? Sì, allora, come dicevo prima, quello di Promindo, intanto spero poi di ritornare a breve, perché vorrà dire che la situazione è di nuovo la normalità e si potrà di nuovo celebrare la festa alla fine di giugno tutti insieme. Io vorrei comunque presentare qualcosa proprio sulla chiesa di Saint-Lémy e poi anche sul santuario in Piemonte della Vergine delle Grazie, la Madonna d'Abbas, propriamente detta pezzana, che è anche percorso della via francigena. Ne approfitterò quindi per far vedere tutti i paesaggi circostanti. Ecco, parloci anche della, adesso, della foto del call menzionata appunto da Street Photography Magazine. Allora, ce l'abbiamo qui, nella foto questa, allora una era questa, te le faccio vedere tutte e due, intanto per vedere come abbiamo colto l'inquadratura e una era questa qui. Ok, questa è quella menzionata. Allora, procedendo verso il lago, quindi verso la Svizzera, c'è un negozio di souvenir. A lato c'è la distilleria del Gran San Bernardo con il famoso Genepi. Nella distilleria ha anche sede a Gignot, che è il borgo che ho citato prima. Ho presentato due foto tipiche di questo lato del call e la rivista le ha citate, ne ha parlato. Ho contattato i proprietari della distilleria che si sono dimostrati subito entusiasti e mi hanno detto che mi aspettano per la prossima estate, sperando il virus sparisca e che si torni ad una vita normale. Ecco, tu hai colto anche bene i dettagli del lago. Sì, si intravede lo spizio in fondo, quindi abbiamo questo e lo spizio del San Bernardo, quindi siamo già in un lato svizzero e qui abbiamo un dettaglio proprio del lago. Lo splendore dell'acqua è sempre qui catturato con una lente da 70-300 mm rimontata su un icon di 5.000, che è proprio quella che coglie i dettagli di tutti i paesaggi. È diviso questo lago tra Saint-Rémy e Bourg-Saint-Pierre. C'è questa croce di legno dentro, qua. Ecco. E si entra in simbiosi stretta, quindi, con la purezza della montagna. È scritto Plante Jupiter, ecco, da dove deriva questo nome? Plante Jupiter si chiama così perché sul colle si edificò il tempio dedicato a Giove Pennino. Il valico era un'importante via di comunicazione attraverso le Alpi. C'è poi la statua, quella che avete visto prima, dedicata a San Bernardo, che è il protettore degli alpinisti. Ecco, qua si vede anche meglio. Qui c'è tutto, Plante Jupiter. Mi è andata bene che c'era la luna che tramontava in quel momento lì e qui c'è la statua. E quindi, proprio da lì, da qui sono riuscita a inquadrare la foto che prima ho menzionato, quindi questa, premiata lì in Germania. Quindi sono stata veramente felice di aver fatto conoscere questa zona anche all'estero, in un paese poi come la Germania. Ecco, hai visitato anche l'ospizio? Hai visto i cani? Ancora no, però si torna, magari si può fare. Tra l'ospizio del San Bernardo, tra l'altro appunto ha questo ospizio, ha dei collegamenti, come si vede dal sito web, con quello del Sempione, quindi con l'ospizio del Sempione, che tu hai fotografato lo scorso settembre. Sì, esattamente. Io ci tenderei poi a fare un reportage in parallelo, unendoli tutti e due. Sono paesaggi diversi, ovviamente, per morfologia, però nello stesso tempo presentano molte similitudini, a partire dagli ampi tornanti con notevoli spunti da inquadrare. Sono paesaggi questi che danno molta serenità e molta pace. Io però preferisco restare in Italia, perché i paesaggi sono, a mio giudizio, sempre più belli. Onore anche alla Svizzera, però per come li tiene, per come li cura. Sicuramente hai un occhio particolare che vede cosa che magari appunto noi non riusciamo a vedere. Ecco, ma hai qualche sorgente di ispirazione? Io parlo sempre spunto dalla giornalista documentarista Eloise Barbieri, che amo moltissimo i suoi reportage. Poi aveva realizzato recentemente uno su San Gran San Bernardo, proprio, su E3, ed è a dir poco favoloso. C'è molto da imparare su questi video. Glielo ho detto, glielo ho scritto anche in Facebook, che è un peccato non poter usufruire dello streaming del programma Rai VDA al termine dell'edizione salale del Tg regionale dalla Valle d'Aosta. E quando sono a Cervinia, di solito, non perdo una puntata di questa rubrica. Parlano di tutte le tradizioni locali, volti, paesaggi, antichi mestieri. E io ne rimango sempre affascinata, anche in un certo senso commossa. Ho sempre amato questa regione, fin da piccola, e vorrei vederla sempre più bella. Vorrei una regione più aperta. Vorrei che fosse soprattutto più facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Ne ricaverebbe proprio sicuramente maggior vantaggio. Ecco, tu sei stata protagonista dell'edizione di Winter Vision 2000 per Landscape Photography Magazine, sempre con la Valle d'Aosta. Sì, sul finire del 2020 con il lago di Maen, in veste candida, lo facciamo vedere. Allora, è qua. Allora, Maen. Eccolo qui. Vedete che meraviglia di posto. in veste candida tra i rami degli alberi e qui è stato fotografato dalla frazione Barmas di Valtournage. Per questo successo ci tengo a ringraziare in modo particolare il noto scultore Votornen, Gian Giuseppe Barmas, dal cui il suo nome nasce il nome di questa frazione. Lui mi ha ospitato in casa sua per farmi vedere dal vivo e in esclusiva le sue opere. era veramente un grande maestro che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi soprattutto alla fiera di Sant'Orso che sappiamo che è la più celebre della Valle d'Aosta. E poi vorrei ringraziare anche la mia amica che è la regina del costume di Valtournage, Adele, che funge da autista quando vado su con il cai di Valtournage. Ecco, ricordiamo il tuo prossimo evento. Ti saluto il croce santa che sarà dedicato al Beato Angelico e confermiamo la data che è quella del 3 aprile mi sembra. Sabato 3 aprile, sì, io vi aspetto tutti su questa piattaforma alle ore 15, quindi apriremo il collegamento anche poco prima alle 14.50 per trascorrere una 40 minuti buoni insieme a parlare di questo grande artista che che ha illuminato il museo di San Marco di Firenze. Allora, nel straduzzo di un evento il titolo vuole ispirarsi proprio alla conclusione della settimana santa del venerdì, quindi quando c'è la commemorazione della croce, quindi ci sarà un evento che parlerà sia di scienza, quindi sull'azzurrite nell'arte e magari se riusciamo anche a far intervenire alcuni allievi dell'istituto dove lavoro l'Ipsia per far vedere come hanno lavorato bene su questa parte, sarà un'occasione anche per riscoprire una realtà storica di quel tempo e di vedere le fotografie di tutte le celle del museo. Io per partecipare alle ore 15 basta chiedere il link a mezzo mail all'indirizzo info niconista con la k 77 chiocciola gmail punto com o tramite messenger di facebook o tramite whatsapp e ci tengo a dire alle persone di consultare di tenersi aggiornati con facebook perché pubblicherò le notizie e le news sull'evento e sarà un'occasione tutti insieme per scambiarci gli auguri di Pasqua attraverso le fotografie quindi non mancate e portate un uovo di Pasqua con la sorpresa mi raccomando che poi ci scambieremo gli auguri tutti insieme va bene Stefania ti ringraziamo appunto per averci fatto conoscere il Gran San Bernardo e fa davvero voglia di venirlo andare a vedere dal vivo sicuramente lo sponsorizzeremo anche noi per risorrivare il turismo dopo questa terribile pandemia quindi ringraziamo Stefania e diamo appuntamento ovviamente ai prossimi appuntamenti a cominciare quello proprio come dicevi tu del 3 aprile e con il Beato Angelico grazie grazie a tutti